Sono stati individuati questa mattina i corpi senza vita di due degli ultimi quattro dispersi della frana che ha colpito il comune di Casamicciola sull'isola di Ischia. Per ora solo una delle due salme è stata estratta nella zona di via Celario. Si aggrava così il bilancio delle vittime e dei danni. All'ultimo aggiornamento disponibile a Ischia sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione presso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate mentre per quanto riguarda gli edifici sale addirittura a 900 il numero delle strutture in vario modo interessate dalla frana. Così il ministro per la protezione civile Nello Musmeci nel corso dell'informativa urgente nell'aula della camera sui tragici eventi alluvionali e franossi dell'isola. Per quanto riguarda gli edifici inoltre finora sono stati effettuati 272 controlli da cui viene fuori che 45 strutture sono danneggiate e inagibili e 56 agibili ma danneggiate. Per venire incontro agli schitani i soggetti titolari di mutui su edifici sgomberati hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate ha assicurato il ministro aggiungendo che nei prossimi giorni verranno conclusi controlli e si potranno definire con esattezza i confini della zona rossa. Ma resta il nodo dell'abusivismo che per Musumeci non può essere più eluso. L'abusivismo è in parte anche la palla al piede del processo di ricostruzione post terremoto di cui si occupa ad alcuni mesi il commissario Giovanni Legnini che da ieri è anche commissario straordinario per la protezione civile ad Ischia, nomina fortemente calveggiata dal governatore della campagna Vincenzo De Luca.